284 casi su 20.720 tamponi processati, tasso di positività all'1,37%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 19 novembre. I casi emersi dal report precedente erano stati 233 su 21.835 test con positività all'1,08%. Il totale dei contagi da coronavirus emersi in Puglia sale a 277.500, di cui 3.811 attualmente positivi, 266.321 guariti e 6.873 deceduti. Nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso, 5 sono i casi attivi in più rispetto a ieri, 279 sono i nuovi guariti. Calano da 152 a 149 i pazienti ricoverati in area non critica, passano da 15 a 16 le terapie intensive. Su scala provinciale, il dato più alto di giornata è rappresentato dagli 80 casi emersi nel barese. 100.675 è il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. Numeri simili nel Tarantino e nel Foggiano, zone nelle quali sono stati registrati rispettivamente 67 e 64 nuovi positivi. 42.485 è il totale della zona ionica, 48.953 è quello della Capitanata. 30 sono i nuovi contagi emersi nell'Eccese, 32.650 il totale della zona salentina. 28.648 è invece il dato complessivo della BAT, zona nella quale i nuovi casi odierni sono 28. 18 sono infine i nuovi positivi emersi nel Brindisino, un dato che porta il totale a 22.007. 4.558.197 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.